Benvenuti su NetTalk, il podcast dove esploriamo tutto ciò che riguarda la tecnologia, il software, internet e i pericoli della rete. Ogni settimana ci immergiamo nelle ultime novità del mondo digitale, discutiamo delle innovazioni più interessanti e sveliamo i rischi nascosti dietro la superficie scintillante del web. Dalle tendenze tech emergenti alle pratiche di sicurezza online, NetTalk è la tua guida definitiva nel vasto universo della rete. Bentornati a NetTalk. Oggi ci buttiamo a capofitto nella politica americana, con un ospite d'eccezione, la psicologa Nancy Rossi. Grazie a voi per l'invito. Il nostro approfondimento di oggi prende sconto da una lunga intervista, una chiacchierata direi, tra Joe Rogan e Donald Trump. Un'occasione unica per entrare nella testa di un uomo che ha deviso l'America, ma anche per capire come si intrecciano comunicazione, psicologia e politica. Preparatevi perché questa intervista è un viaggio tra aneddoti incredibili, strategie comunicative e analisi psicologiche. Assolutamente. Nancy a te. Cosa ha colpito di più di questo incontro tra due personalità così forti? Beh, se la cosa che mi ha colpito di più è come Trump, che ha un'immagine pubblica, diciamo pragmatica, a tratti aggressiva. Certo. Descrive il suo ingresso alla Casa Bianca, quasi come un'esperienza mistica, con una tale attenzione ai dettagli e alla storia da far trasparire un lato molto più emotivo e forse insicuro. Interessante. È un po' come se la storia e il peso di quel logo lo avessero messo a nudo. Esatto. Rivelando una fragilità che di solito non mostra. Giusto. E questo suo lato, diciamo, più umano si riflette anche nel suo stile decisionale. Nell'intervista, Trump ammette di aver dovuto imparare a governare sul campo. Sì. Affidandosi a persone che non conosceva bene. Ahà. Addirittura usa l'etichetta Neocon in modo negativo per alcuni ex collaboratori. Sì, esatto. Da un lato sembra e conosce una certa ingenuità politica iniziale. Giusto. Dall'altro si vanta di essersi adattato. Però usare etichette negative per ex collaboratori. Certo. Come Neocon, che indica un gruppo di intellettuali e politici conservatori. Certo. Indica anche una tendenza a scaricare le responsabilità, a non voler ammettere i propri errori. Questo suo modo di comunicare è evidente in tutta l'intervista. Sì. Critica i media tradizionali accusandoli di distorcere la realtà. Vero. Ma allo stesso tempo, elogia a figure come Joe Rogan e Elon Musk. Esatto. C'è una strategia dietro questa scelta, Nancy. Certo che c'è una strategia. E cosa cerca di ottenere con questa comunicazione così diretta? Trump si presenta come l'uomo contro il sistema contro l'elite e usa un linguaggio semplice e diretto, a volte anche provocatorio, per creare una forte connessione emotiva con il suo pubblico, demonizzare i media tradizionali ed esaltare figure alternative come Rogan e Musk, che si posizionano al di fuori del sistema mediatico tradizionale, fa parte di questa strategia. E' come se volesse dire, io sono uno di voi contripotenti. Esattamente. E questo approccio si riflette anche nel modo in cui parla di economia. Sì. Trump si vanta di aver creato la migliore economia della storia americana, mettendo in primo piano i dazi e i tagli alle tasse. Esatto. Trump usa una retorica economica molto semplificata. Sì. Con toni quasi esagerati, presentandosi come l'uomo d'affari di successo che può aggiustare l'economia. Wow. L'obiettivo è chiaro creare un'immagine di forza e competenza anche a costo di distorcere la realtà. E parlando di distorcere la realtà, la Cina è un bersaglio costante. Vero. Trump l'accusa di manipolare l'economia mondiale e di inquinare l'ambiente, proponendo una visione protezionistica dell'economia americana. Sì. Perché questa insistenza sulla Cina come nemico. La Cina diventa il capro espiatorio perfetto per i problemi economici americani. Ah. Trump alimenta la paura del nemico esterno per compattare il suo pubblico contro un avversario comune. Capisco. È una tattica classica per distogliere l'attenzione dai problemi interni e per rafforzare il sentimento nazionalista. Quindi, secondo te, Trump usa la Cina come una sorta di spauracchio per unire il suo pubblico? Esattamente. La Cina diventa la rappresentazione di tutto ciò che non va nell'economia globale. Giusto. La causa della perdita di posti di lavoro è del declino americano. È un modo efficace per semplificare la realtà e per proporre soluzioni apparentemente facili. E passando dalle questioni economiche a quelle internazionali. Sì, sì. Come si inserisce la sua immagine di uomo forte nel modo in cui Trump si relaziona con gli altri leader? Interessante. Nell'intervista descrive Putin come un uomo forte e intelligente ma anche pericoloso. Sembra quasi ammirarlo. Trump sembra attratto dai leader autoritari. Sì. Da quelli che esercitano il potere in modo spregiudicato. Gli ammira quasi l'invidia. Questo atteggiamento lo porta a cercare di imporre la propria personalità anche a livello internazionale, presentandosi come un leader risoluto e imprevedibile. Un po' come un giocatore di poker che bluffa per prendere il piatto più ricco. Quindi secondo te Trump cerca di replicare questo modello di leadership anche nel contesto internazionale? Certo. Trump è convinto che per ottenere il rispetto degli altri leader sia necessario mostrare i muscoli, essere imprevedibile e non aver paura di usare la forza. Questa visione però può portare a un aumento delle tensioni internazionali e a un clima di sfiducia. Dalle tensioni internazionali passiamo a un tema più personale. La salute. Trump parla della sua salute e di quella degli americani. vantandosi del suo stile di vita, sano e criticando l'obesità. Cosa ci dice questo suo atteggiamento? Trump usa la salute come una metafora del successo e del potere. Si presenta come un modo energico in forma quasi invincibile. Wow. In contrasto con un'immagine di un'America decadente e malata. è un modo per rafforzare la sua immagine di leader forte e vitale, capace di guidare la nazione verso una nuova era di prosperità. Interessante. Ma c'è anche un altro aspetto da considerare. Vabbè, dimmi, sono curioso. Trump usa la sua salute anche per costruire un legame emotivo con il suo pubblico. Si presenta come un uomo comune che condivide le preoccupazioni e le aspirazioni della gente. Episco. Anche quelle legate alla salute e al benessere fisico. Giusto. Un modo per dire, io sono come voi, mi prendo cura di me stesso e voglio che anche voi facciate lo stesso. È affascinante come Trump riesca a intresciare temi personali come la salute con la sua retorica politica. Vero. Ma torniamo a quella vena di imprevedibilità che abbiamo noto prima. Sì. Nell'intervista Trump critica alcuni dei suoi ex consiglieri definendoli neocon in modo dispregiativo. Allo stesso tempo però ammette di aver dovuto imparare a governare sul campo come si conciliano queste due posizioni. È un aspetto interessante, vero? Da un lato Trump sembra volersi presentare come un uomo d'azione, un decisionista che non ha paura di sporcarsi le mani e di imparare degli errori. Giusto. Dall'altro lato però non riesce a resistere alla tentazione di scaricare la colpa sugli altri, di trovare un capro espiatorio per i suoi eventuali fallimenti. E sembra quasi che voglia dire, sono un uomo forte, un leader, ma non sono infallibile. Esatto. E questa sua vulnerabilità, se vogliamo chiamarla così, emerge anche nel modo in cui parla di economia. Trump si vanta di aver creato la migliore economia della storia americana. Certo. Ma non tutti sono d'accordo. Vero. Come si spiega questa sua sicurezza, a volte quasi arroganza nel parlare di temi economici? Trump usa la retorica economica come un'arma, un modo per seguire il suo pubblico e convincerlo della sua competenza. Anchisco. Semplifica la realtà, usa slogan ad effetto, esaggia i suoi successi e minimizza i suoi fallimenti. Si presenta come l'uomo d'affari di successo che può risolvere tutti i problemi, come un mago dell'economia che può far sparire il debito pubblico e far piovere dollari dal cielo. E la Cina. Cosa c'è dietro questa sua ossessione per la Cina? La Cina è l'emico perfetto per Trump, la rappresentazione di tutto ciò che minaccia l'America e il suo stile di vita. Lo capisco. La Cina è il concorrente sliale, il manipolatore di valuta, il ladro di proprietà intellettuale, l'inclinatore ambientale. È un modo per creare un nemico esterno, un capro espiatorio su cui scaricare tutte le frustrazioni e le puere dell'America. È un po' come se dicesse, se la Cina non ci fosse l'America sarebbe di nuovo grande. Esattamente. E a proposito di grandezza. Sì. Trump non esita a parlare di armi nucleari definendole la più grande minaccia al mondo. Vero. Cosa ci dice questo della sua visione del mondo? Trump ha una visione del mondo molto semplicistica, quasi infantile. Per lui la forza militare è l'unica vera misura del potere, l'unica garanzia di sicurezza e di successo. Capisco. Le armi nucleari, in questo contesto, diventano il simbolo della potenza americana, la dimostrazione che l'America è ancora la nazione più forte del mondo. E questa sua visione del mondo si riflette anche nel modo in cui si relaziona con gli altri leader. Sì. Li vede come modelli da imitare esempi di successo da seguire. Putin, in questo senso, rappresenta l'archetipo del leader forte, capace di tenere a bada i nemici e di imporre la sua volontà. È un'ammirazione che stridi con la sua retorica nazionalista non credibile. Vero. Come si concilia l'ammirazione per un leader straniero con l'idea di America First? È una contraddizione solo apparente per Trump. L'ammirazione per un leader forte come Putin non è in contrasto con l'idea di America First. Anzi, la rafforza. Per lui il leader forte è necessario per difendere gli interessi dell'America nel mondo, per competere con le altre potenze, per far rispettare la legge americana anche al di fuori dei confini nazionali. Quindi, secondo te, Trump vede in Putin un alleato, un partner nella sua battaglia per riportare l'America al centro del mondo? Non direi un alleato, ma sicuramente un modello da seguire. Capisco. Trump ammira la capacità di Putin di imporsi sulla scena internazionale, di dettare le regole del gioco, di non farsi mettere piedi in testa da nessuno. E questa sua visione si riflette anche nel modo in cui parla di immigrazione. Trump, come sappiamo, ha fatto della lotta all'immigrazione legale, uno dei suoi cavalli di battaglia. Vero. Cosa c'è dietro questa sua ossessione per l'immigrazione? Per Trump l'immigrazione è una minaccia all'identità americana, un pericolo per la sicurezza nazionale e un peso per l'economia. Eh sì. Gli immigrati sono visti come criminali, come portatori di malattie, come usurpatori di posti di lavoro. Wow. La retorica anti-immigrazione di Trump è basata sulla paura, sul pregiudizio, sulla xenofobia. Ma non si può negare che l'immigrazione sia un tema complesso, con implicazioni economiche, sociali e culturali? Vero. Come si spiega questa sua semplificazione del problema? Trump non è interessato alla complessità del problema. Per lui l'immigrazione è un problema semplice con una soluzione semplice. Chiudere le frontiere, costruire muri, spallere gli immigrati illegali. Capisco. È una visione semplicistica ma efficace dal punto di vista comunicativo. E a proposito di comunicazione, come si inserisce in questo quadro la sua ossessione per la salute? Trump parla spesso della sua salute vantandosi di essere in ottima forma fisica e di avere una genetica superiore. Giusto. Cosa c'è dietro questa sostentazione? Per Trump la salute è un simbolo di forza, di virilità, di successo. Ah. È un modo per dimostrare di essere ancora giovane, energico o potente. Capisco. Il suo vanto di avere una genetica superiore è un modo per affermare la sua superiorità per distinguersi dalla massa, per presentarsi come un uomo eccezionale. Ma non è un po' contraddittorio vantarsi di avere una genetica superiore e allo stesso tempo condurre uno stile di vita poco salutare. Certo che è contraddittorio, ma a Trump non importa, lui si sente al di sopra delle regole immune, alle conseguenze delle sue azioni. Wow. È convinto che la sua forza di volontà, la sua energia, la sua genetica lo proteggano da ogni male. E questa sua convinzione si riflette anche nel modo in cui parla di ambiente. Sì. Trump, come sappiamo, è un negazionista climatico convinto che il cambiamento climatico sia una bufala. Piero. Cosa c'è dietro questa sua posizione? Trump nega il cambiamento climatico per due motivi. Primo perché non crede nella scienza. Secondo perché il riconoscimento del problema richiederebbe un intervento governativo, cosa a cui lui è totalmente contrario. Quindi secondo te il negazionismo climatico di Trump è solo una questione ideologica, non c'è nulla di scientifico dietro le sue affermazioni. Esattamente. Trump non ha alcuna competenza scientifica. Capisco. Le sue affermazioni sul clima sono basate su opinioni personali, su pregiudizi, su teorie del complotto. E questo suo atteggiamento antiscientifico si riflette anche nel modo in cui parla di altri temi come ad esempio la pandemia. Sì. Trump, come sappiamo, ha minimizzato la gravità del Covid, ha criticato le misure di contenimento, ha promosso cure inefficaci. La gestione della pandemia da parte di Trump è stato un disastro. Ha anteposto la sua agenda politica alla salute pubblica, ha diffuso disinformazione, ha messo a rischio la vita di milioni di americani. Ma non si può negare che anche lui si sia ammalato di Covid. Vero. Che abbia sperimentato in prima persona la gravità della malattia. Questo non ha cambiato il suo atteggiamento. No, non lo ha cambiato. Trump è un uomo incapace di ammettere i propri errori, di imparare dalle proprie esperienze. Anche dopo essersi ammalato di Covid, ha continuato a minimizzare la gravità della pandemia, a promuovere cure inefficaci, a criticare le misure di contenimento. È incredibile come quest'uomo riesca a negare l'evidenza, a costruire una realtà parallela in cui lui ha sempre ragione, in cui i fatti non contano. Vero. Ma torniamo alla sua retorica, al suo modo di comunicare. Trump, come sappiamo, attacca spesso i media tradizionali accusandoli di essere falsi e di diffondere fake news. Qual è lo scopo di questa sua campagna contro la stampa? Trump attacca la stampa per delegittimarla, per iscrivitarla, per impedire che la sua narrazione venga messa in discussione. Per lui i media sono un nemico da combattere, un ostacolo a suo potere. Ma non è un atteggiamento un po' paranoico, un po' ditatoriale? Certo che lo è, ma a Trump non importa, lui si sente al di sopra della legge, al di sopra delle regole, al di sopra della morale. E questo suo atteggiamento si riflette anche nel modo in cui parla di donne. Trump, come sappiamo, è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne. Vero. Come si spiega questo suo comportamento? Trump ha una visione misogina delle donne. Le vede come oggetti sessuali, come esseri inferiori, come proprietà da conquistare e possedere. Le sue dichiarazioni sulle donne sono spesso volgari, offensive e degradanti. Ma non si può negare che molte donne lo abbiano votato, che lo ammirino, che lo considerino un modello. Non si spiega questo paradosso. Ci sono molte ragioni per cui alcune donne sostengono Trump, alcune lo ammirano per il suo successo economico, per la sua immagine di uomo forte, per la sua capacità di sfidare le convenzioni. Altre condividono le supposizioni politiche, la sua visione del mondo, la sua retorica anti-immigrazione. Altre ancora lo votano per partito preso perché si identificano con il partito repubblicano e con i suoi valori. È incredibile come quest'uomo riesca a suscitare reazioni così diverse, a dividere l'opinione pubblica in modo così netto. Ma torniamo alla sua visione del mondo e alla sua filosofia, se vogliamo chiamarla così. Trump sembra avere una visione molto semplicistica, quasi manichea, divisa tra vincitori e perdenti. Cosa c'è dietro questa sua dicotomia? Per Trump la vita è una competizione, una battaglia in cui solo i più forti sopravvivono. Eh già. Lui si considera un vincitore, un uomo di successo che si è fatto da solo, che ha raggiunto il vertice grazie al suo talento e alla sua determinazione. I perdenti invece sono quelle che non ce l'hanno fatta, quelle che si sono arresi, quelle che non hanno avuto il coraggio di combattere. È una visione del mondo molto cinica, molto individualista, molto americana se vogliamo. Viero. Ma non credi che questa sua ossessione per la vittoria, per il successo, lo porti a distorcere la realtà, a negare l'evidenza, a sacrificare tutto sull'altare del suo ego. Certo che lo fa. Trump è un uomo egocentrico narcisista, ossessionato dalla sua immagine e dal suo potere. Wow. Per lui la verità non conta solo sulla sua vittoria. E questa ossessione per la vittoria si riflette anche nel modo in cui parla di leadership. Sì. Trump sembra avere un'idea molto autoritaria della leadership. Vero. Basata sulla forza, sulla decisione, sulla capacità di imporre la propria volontà. Per Trump un leader deve essere forte, dominante e spregiudicato. Deve essere capace di prendere decisioni difficili, di non farsi condizionare dalle critiche, di perseguire i suoi obiettivi senza esitazioni. È un modello di leadership che ricorda molto quello dei dittatori non trovi. Certo che lo ricorda. Trump ammira ai dittatori l'invidia per il loro potere assoluto, per la capacità di controllare la società, di reprimere il dissenso, di imporre la loro visione del mondo. È incredibile come quest'uomo riesca a incarnare così tanti aspetti contraddittori, a essere allo stesso tempo affascinante, repugnante, geniale e folle, pericoloso e ridicolo. Vero. Ma forse è proprio questa sua complessità, questa sua imprevedibilità, renderlo un personaggio così interessante, un personaggio che non smette mai di stupirci nel bene e nel male. Un enigma, un mistero, un'anomalia. Un uomo che ha sfidato tutte le regole, che ha infranto tutti i tabù, che ha diviso l'America come nessun altro prima di lui. E a proposito di divisione non possiamo ignorare le sue dichiarazioni controverse, come quelle sull'uso di armi nucleari o sulla sua ammirazione per Robert E. Lee. Vero. Come si spiega la sua popolarità nonostante queste posizioni estreme. Trump sfida i tabù, usa un linguaggio provocatorio, che per una parte del pubblico significa autenticità anche quando porta a posizioni discutibili. È come se la sua franchezza, anche se a volte offensiva fosse vista come una forma di ribellione contro il politicamente corretto. E veniamo a quel finale. Eh sì. In cui Trump ribadisce la sua convinzione di aver vinto le elezioni del 2020, accusando i suoi avversari di brogli. Gatti. Per se ci dice questa della sua psicologia? Trump si presenta come vittima di un complotto, alimentando sfiducia e paranoia. Capisco. La sua visione del mondo è manichia divisa tra patrioti e traditori. Non accetta la sconfitta, la trasforma in un attacco personale, non la minaccia alla sua identità di vincitore. E questa sua visione del mondo si riflette anche nel suo rapporto con i media. Certo. Trump li attacca duramente accusandoli di essere falsi e di diffondere fake news. Trump si pone come unica fonte di verità, delegittimando qualsiasi voce critica. È un modo per consolidare il suo potere e la sua influenza sui suoi sostenitori, creando una realtà alternativa in cui lui è sempre il vincitore. E per quanto riguarda le sue posizioni politiche? Trump ha cambiato idea su diverse questioni nel corso degli anni, come ad esempio sul tema delle armi. La flessibilità ideologica di Trump è un altro elemento che contribuisce alla sua imprevedibilità. Questa incoerenza può essere vista come un segno di pragmatismo, ma anche come una mancanza di principi solidi. E il suo rapporto con le donne. Trump è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne. Vero. Accuse che lui ha sempre negato. Il comportamento di Trump nei confronti delle donne è stato oggetto di numerose polemiche. Le sue dichiarazioni, spesso volgari e offensive. Giusto. E le accuse di molestie hanno sollevato dubbi sulla sua integrità morale. Nancy, in questa intervista Trump sembra quasi volersi presentare come un outsider. Sì. Un uomo al di fuori del sistema politico tradizionale, ma allo stesso tempo non esita a usare i meccanismi del potere per i suoi scopi. Esatto. Trump è un maestro nel manipolare il sistema a suo vantaggio, usando il suo potere per attaccare i suoi avversari e per promuovere i suoi interessi. È un uomo che sa come giocare con le regole, piegandole ai suoi bisogni. E per quanto riguarda il suo futuro, Trump non ha escluso una nuova candidatura alla Casa Bianca. La possibilità di una nuova candidatura di Trump è un elemento di incertezza che pesa sulla politica americana. Eh sì. La sua influenza sul partito repubblicano è ancora forte. Vero. E la sua capacità di mobilitare l'elettorato non va sottovalutata. Grazie Nancy per questa analisi. È stato davvero illuminante esplorare la mente di Donald Trump attraverso questa lunga intervista. È stato un viaggio nella sua mente tra luce e ombre. Un vero e proprio viaggio nella mente di un uomo che ha segnato la storia americana e che potrebbe tornare a far parlare di sé? Assolutamente. E a voi cari ascoltatori cosa ne pensate? Chi te mi chiesti come un uomo così controverso riesca ad essere così popolare? Vero. Qual è il segreto del suo fascino? Chissà. Scriveteci sui nostri social e fateci sapere le vostre riflessioni. Fateci sapere. A presto con un nuovo approfondimento di NetTalk. Alla prossima. Grazie per aver ascoltato NetTalk. Rimani sintonizzato per il prossimo episodio dove continueremo a esplorare il mondo affascinante della tecnologia, del software e dell'internet. Non dimenticare di seguirci sui nostri canali social e di iscriverti per ricevere tutte le ultime novità. Fino al prossimo episodio. Rimani connesso. Rimani sicuro. Rimani connesso.